Erano diventati invisibili, agli occhi dei familiari, del vicinato, dei servizi sociali, delle istituzioni che avrebbero potuto e dovuto fare qualcosa. C'è solitudine e degrado sullo sfondo della triste storia di una coppia. Lui 66 anni, lei 55 anni, trovati cadaveri sabato sera in una casetta di due piani nel centro storico di Ribera. Enza Catanzaro, originaria di Sciacca, era riversa sul pavimento al pian terreno, quasi all'ingresso in mezzo ad una montagna di sacchetti di plastica della spazzatura, sedie rotte e vecchi scatoloni. Al primo piano, Vincenzo Maniscalco di Ribera giaceva sul suo letto. A ritrovarli nell'abitazione di Via Gullo, una stradina stretta tra la stazione dei pullman di piazza Zemenoff e la chiesa madre, sono stati i vigili del fuoco. Li avevano chiamati poco prima alcuni vicini infastiditi dal cattivo odore che usciva dalla casa. Secondo i carabinieri della compagnia di Sciacca, che si stanno occupando delle indagini, la donna sarebbe morta più di 15 giorni fa, cadendo e battendo la testa. Il compagno, con il quale conviveva da qualche anno e costretto a letto, sarebbe rimasto quindi da solo e senza le cure della donna, sarebbe deceduto alcuni giorni dopo per inedia. La coppia conduceva una vita solitaria, tant'è che i vicini di casa, non vedendoli da giorni, non si sono allarmati. I pompieri, forzando la porta ad ingresso, hanno trovato subito il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione. Per farsi largo nell'abitazione hanno gettato all'esterno parte di quella montagna dei rifiuti che circondava il corpo. Secondo i racconti dei residenti del quartiere, a portare dentro casa quella spazzatura raccogliendola per strada sarebbe stata proprio la donna, solita uscire la sera e girovagare per le vie del quartiere. Del fascicolo di inchiesta si sta occupando il sostituto procuratore di Sciacca Alessandro Moffa, che non ha disposto l'autopsia. Le salme sono state restituite ai familiari per i funerali, diversi gli interrogativi a carattere sociale ed umanitario, che fanno da sfondo alla tragedia. Possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Possibile che nessuno sapesse, conoscesse la realtà in cui vivevano i due?